E giovedì 1 gennaio la Chiesa ha celebrato la solennità di Santa Maria Madre di Dio al compiersi dell'ottavo giorno dalla nascita di Gesù. Nel Capodanno Civile si è celebrata anche la giornata per la pace per la quale il Papa Benedetto XVI ha inviato a tutti i responsabili del bene comune un messaggio intitolato Combattere la povertà, costruire la pace. Nel corso dell'Omelia il Cardinale ha rilevato come i rilievi sulla qualità della vita appongano la nostra città tra quelle più ricche in Italia mentre gli indicatori sociali confermano una preoccupante discesa. Una città ricca, ha detto l'Arcivescovo, non significa perciò stesso una città coesa. Questa è dunque la vera sfida, combattere certo la povertà ma per costruire una migliore coesione sociale perché la più grande povertà è la solitudine ed il vivere gli uni accanto agli altri come estranei. Il messaggio di Benedetto XVI per la giornata della pace è stato consegnato dal Cardinale a rappresentanti delle associazioni ecclesiali e dei vari ambiti della vita civile, poi distribuito a tutti i fedeli. Lo stesso messaggio è disponibile anche sul sito internet della Santa Sede www.vatican.va